ok oltre di punto manco mettono la gialla l'amera l'hanno messa l'hanno messa adesso l'hanno messa io non ce la fai no l'hanno messa mi hanno fatto il c'era riuscita a farmi medikit ma quanto ne va questa cosa ma che cazzo ne so comunque vai nella jump, vai nella jump sopra sopra ma non credo che ce la fai no non credo che ce la fai, guarda quanto levo dai ragazzi ce l'ho riuscito ce l'ho riuscito no ma non ce la faccio a farmi il medic ragazzo di cose non ce la faccio mi dici che non me lo sono fatto il medic fermo fermo ti vedo con la fermo proviamo c'è tanto sti cazzo non tanto sti cazzo stavolta ti è finito stavolta ti è finito stavolta ti è finito stavolta ti è finito non ti ha curato non ti ha curato perchè non ti ha curato perchè non ti ha curato corri io cattolavo ti è finito ti è finito mi sapevo che sei non è colpa mia sto lagrando io ti vedo che ti avevo curato sei affattato io cattolavo non ti dobbiamo fermarti oddio siamo morti ciao 12 cacca oddio roma 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 ti giuro del tivano che se ti 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 vedo che in piedi c'è in piedi vedo che ti ho curato del tutto no non lo vorrei non è non è d'abbuardo ma quante gile ci hanno poi è che uno o tre eh solo quello di altre solo quello di altre il bello che c'è tutto 500 di materiali oddio sta baggando tutto grazie